Bandierina verde è in corrispondenza della prima cala di Molfetta, dell'hotel Riva del Sole a Giovinazzo e dell'Ido Lucio, la Santo Spirito. Diminuisce progressivamente la presenza dell'alga tossica lungo litorale di Bari. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Arpa Puglia, che si riferisce ai primi 15 giorni di luglio, le concentrazioni lungo la costa a nord del capoluogo pugliese stanno scendendo, restano invece un po' più alte a sud della città, con valori comunque in diminuzione. La bandierina è passata da rossa ad arancione in corrispondenza dell'Ido Il Trullo, nella zona di San Giorgio. Significa che la presenza dell'alga è ancora abbondante. La bandierina invece è azzurra, sia nelle vicinanze della ditta Iom e San Solive, a sud di Mola di Bari, sia in corrispondenza del castello Santo Stefano. In questo caso la presenza dell'alga è considerata scarsa. La situazione resta critica in pochissime aree, per esempio a sud della fogna cittadina di Bisceglie, dove la bandierina è ancora rossa, così come a Portobadisco, Scalo di Enea, in provincia di Lecce, dove le concentrazioni sono ancora molto abbondanti. La bandierina invece è gialla in zona Forcatella, Savelletri, in provincia di Brindisi. L'alga tossica è un organismo microscopico che vive soprattutto sui fondali rocciosi. In superficie può presentarsi a chiazze come schiuma bianca o marrone. È arrivata nei nostri mari dalle latitudini tropicali e può provocare disturbi. Se è inalata o toccata, i sintomi non sono preoccupanti e variano dalla rinite alla faringite. In alcuni casi possono insorgere bronchiti, febbre, dermatiti e congiuntiviti.